500.000 mascherine non conformi e prive dei requisiti di sicurezza sono state sequestrate assieme a mezzo milione di euro come profitto di reato, mentre 9 sono le persone denunciate nell'ambito dell'operazione Mask-Cov della Guardia di Finanza, coordinata dalle procure di Ancona e Bologna. I dispositivi di protezione non sicuri sono stati rinvenuti nel corso di controlli in alcuni depositi commerciali dove erano stati stoccati e successivamente anche nelle strutture dove erano stati distribuiti, tra residenze per anziani, per la riabilitazione di soggetti deboli, enti di assistenza, ambulatori medici, farmacie e poli sanitari del tutto ignari della reale qualità dei prodotti acquistati. L'attività delle Fiamme Gialle ha permesso di denunciare a piede libero nove rappresentanti legali di imprese con sede in quattro regioni, nelle province di Ancona, Roma, Perugia e Udine, per i reati di frode nell'esercizio del commercio, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e frode nelle pubbliche forniture. Segnalate anche violazioni amministrative previste dal Codice del Consumo. Le ricerche e le attività di perquisizione sono state eseguite in aziende e strutture sanitarie di Ancona, Osimo, Iesi, Fabriano, Fermo, Senigallia, Camerano, Falconara, Sirolo e nell'aeroporto di Bologna. Qui insieme al personale delle dogane sono state sequestrate circa 420 mila mascherine. requisiti con decreto dal commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 ulteriori 80.200 dispositivi, tutti sprovvisti di donna certificazione CE.